Aiutare ed integrare chi ha rispetto per gli altri e per la convivenza comune e marginare invece i violenti. Lo dicono a chiare lettere gli esponenti della rete diritti in case del collettivo Artlab che questa mattina hanno convocato una conferenza stampa nello spazio occupato di Borgotanzi per fare chiarezza in merito al grave episodio verificatosi nella tarda mattinata di ieri quando negli spazi della residenza Sant'Ilario di Borgo Bosazza che confina con lo stesso stabile di Borgotanzi e che è occupata da alcune famiglie magrebine senza tetto si è scatenato un autentico parapiglia. Tre giovani dei movimenti autonomi sono rimasti feriti e sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso. Anche uno degli occupanti è stato medicato in ospedale. Ad avere la peggio è stata una ragazza della rete diritti in casa che ha riportato una frattura al dito medio. Sei stranieri e un italiano sono stati allontanati dalla struttura di proprietà dell'università e hanno dovuto trovare altre sistemazioni temporanee. Si tratta di persone con bambini di cui i servizi sociali si stavano già occupando da tempo. Rimangono invece in Borgo Bosazza altre sette famiglie. Ma ecco la versione dell'accaduto da parte di un membro della rete diritti in casa rimasto ferito nella rissa. Tutto è iniziato perché c'era un lavoro in ballo all'interno di questo spazio e c'era un soggetto che si era preso carico di fare questo lavoro. Nel momento in cui il lavoro non è stato concluso, sono passati un mese e mezzo, due mesi e si è chiesto conto di questo, cioè di perché il lavoro fosse stato sospeso, non fossimo arrivati in fondo e perché collettivamente noi ci stessimo mettendo la faccia su una cosa che non stava venendo fatta come d'accordi. La reazione è stata prima alzare la voce, diventare molto aggressivi e nel momento in cui è stato intimato di smetterla di urlare a 5 cm dalla mia faccia io mi sono trovato una mano al collo e dopo poco venivo minacciato con una mezzaluna di quelle per tagliare la verdura. Per fortuna le persone hanno sentito le urla, quindi sono arrivate a separarci. Da dietro l'altro nucleo familiare che è stato allontanato dal posto è arrivato anche questo armato di coltello minacciando col coltello, eccetera e da lì è venuto fuori quello che è venuto fuori. Dopo poco le persone sono state allontanate. Una delle ragazze, quella che ha avuto il dito medio rotto ha cercato di separare le persone sia da me che da altre che stavano minacciando loro spontaneamente hanno chiamato polizia e giornalisti che li hanno incontrati qua fuori e hanno cominciato a raccontare versioni diverse di quello che era accaduto da che io in teoria sono andato nel loro appartamento prendendolo a calci minacciando con il coltello sia il figlio che la moglie di questo signore a che semplicemente io inizialmente chiedevo conto di cose che non potevano esistere ma non avevo nessun coltello, quindi varie versioni che sono cambiate nel tempo. Una di queste persone che ha sostenuto di essere stata aggredita è stata vista da diversi testimoni farsi tagli autonomi sul proprio collo per poi poter andare all'ospedale e dire che era stata effettivamente aggredita e non so bene se il soggetto che in teoria avrebbe dovuto aggredirla sono io o qualcun altro perché lui non l'ha specificato però ha detto che è stato vittima di un'aggressione. Io lo continuo a sostenere perché è quello che effettivamente è successo nessuno ha usato violenza nei loro confronti tant'è che tolti questi tagli autoinflitti nessuno di loro ha avuto nulla mentre due di noi hanno avuto tagli di questo tipo sul collo e una di noi ha avuto un dito rotto quindi effettivamente la cosa è un po' sbilanciata. Questa è la ragione di base. Come si diceva prima, in altre interviste ci sono state fatte questa è stata un'escalation che si è avuta alla fine di un processo che aveva già dato un po' di problemi e visivamente c'erano delle incomprensioni e sono stati momenti già di tensione in passato che però erano stati contenuti nell'aggressività verbale da parte loro quindi noi cercavamo di motelare la cosa e dire cerchiamo di trovare un punto comune, un punto d'accordo nel momento in cui noi ci siamo trovati per nulla sostanzialmente le mani al collo la cosa è diventata troppo critica e quindi ieri si è dovuto prendere questa decisione in buona sostanza. La conseguenza magari è che a livello di opinione pubblica adesso si dice, vedete queste cose non funzionano certe persone sono pericolose Ma la violenza esiste in qualsiasi luogo, in città quello che è successo in realtà dopo ossia che un'assemblea, soprattutto gli altri abitanti si siano fatto carico di chiedere a queste famiglie di allontanarsi dimostra l'esatto contrario ossia che queste cose funzionano perché appena accadono degli episodi del genere questi episodi non vengono tollerati e vengono allontanate le persone che si fanno artefici di comportamenti incivili e intollerabili quindi vuol dire esattamente il contrario noi non nascondiamo le cose, non nascondiamo i problemi li affrontiamo tutti insieme e se vuol dire che c'è una persona pericolosa o che si rivela pericolosa o incompatibile per queste cose o altre questa persona viene allontanata per questioni di rispetto e di convivere civile di chi abita qui dentro e anche nei confronti dei vicini sull'episodio sono ora in corso indagini da parte delle forze dell'ordine